presentato il tema i miei luoghi ho scelto di parlare di marina di ravenna il mio paese natale in dettaglio del bar centrale di marina di ravenna il bar di famiglia il concept è stato quello di restituire alla cittadinanza le foto dei suoi luoghi valorizzando i grandissimi spazi naturalistici e paesergistici che caratterizzano tutto il paese ma in che modo ho scelto come strumento la letteratura in particolare le poesie dora marcus di eugenio montale il mattino di parini queste rappresentano il territorio parlando dello stesso e delineandolo il mattino racconta del caffè con il filtro dell'ironia la poesia è lo strumento della narrazione dove i versi delle due si accavallano ed intersecano creando un racconto attorno al caffè elemento centrale attorno al quale ruota tutto il racconto cercando di creare un momento estatico tra paesaggio e fruttore ho evitato di creare un buco come se fosse un banale catalogo prodotti astraendo il bar e portando a una dimensione concettuale del tutto a volte si notano quindi elementi di richiamo come il logo pur inserendolo in ambienti completamente diversi ed estranei ho lavorato sul tema dello sport delle persone dei paesaggi e del prodotto commerciale dando senso all'insieme con una narrazione personale perché il caffè è un viaggio alla scoperta del mondo un caffè come direbbero gli illuministi che illumina e risveglia le menti dall'indifferenza sociale che corrode la nostra società perché riprendendo le parole della nostra presidente giovanna cassese ora è la volta di lavorare sulle coscienze ed è questo il grande lavoro dell'artista un lavoro umanistico che deve puntare alla ricostruzione del tessuto sociale dilaniato dal covid 19 ai rapporti umani alla relazione con l'ambiente e le persone grazie per l'attenzione